Sarebbero circa un centinaio gli ultras di Juventus e Atalanta coinvolti negli scontri che si sono verificati nel pomeriggio nel tratto toscano della A1 in provincia di Arezzo. I problemi maggiori secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine si sono registrati nel territorio del comune di San Giovanni Valdarno. Le auto e i minivan dei tifosi dell'Atalanta si sono incrociati in un'area di parcheggio con i tifosi bianconeri provenienti da Milano. Ne sarebbe nata una scazzottata con lancio anche di oggetti terminata all'arrivo della polizia. Alla vista della pattuglia i sostenitori delle due squadre sono scappati lasciando per terra i segni degli scontri. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza l'accaduto nell'area di servizio Arno invece in provincia di Firenze. La presenza delle forze dell'ordine ha impedito il contatto tra le due tifoserie.